Sono sempre dalla mia opinione, cioè nel senso... Innanzitutto non capisco il perché di tutto questo, però comunque non sono io a decidere, quindi rimango dal mio pensiero che aspetto e aspetto il ragazzo che mi possa battere. Ma loro sono forti? Allora, Asia la conosco. Io la reputo una brava ballerina, perché alla fine io penso che sia brava. E invece l'altra? L'altra? Io preferisco Asia, sinceramente, anche tecnicamente. Poi, nel senso, le cose che mi ha detto mi fanno un po' sorridere, insomma, però... Soprattutto perché io penso che bisogna vedere prima se stessi. Cioè, dire che io non sono tecnico nel mio stile... Cioè, nel senso... Hai detto che fai pasticci. Non penso sia così, Maria, non per vantarmi, però io penso che la tecnica sia un mio punto forte nel latino. Io penso sia un po' sorridere, insomma, ma penso che la tecnica sia un po' sorridere. Grazie. 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 Grazie a tutti